Salve a tutti! Continuiamo oggi a parlare dei generatori di onda quadra fatti con amplificatore operazionale parlando di un altro circuito che consente di variare la frequenza di uscita. Rifacendoci al circuito che abbiamo studiato nel video numero 50 possiamo notare che effettuando una variazione della soglia di scatto dell'amplificatore operazionale quindi andando a variare il partitore resistivo presente su questo ramo possiamo effettuare una variazione della frequenza di uscita della nostra onda quadra. Infatti da questa formula che avevamo ricavato nel precedente video possiamo notare che il periodo della nostra onda quadra dipende anche dal rapporto fra la resistenza R2 e la resistenza R1 presenti su questo ramo del circuito. E se noi quindi andiamo a inserire un piccolo trimmer il cui nodo centrale punta al pin non invertente dell'amplificatore operazionale otteniamo che è possibile avere un periodo massimo e un periodo minimo a seconda di come ruotiamo questo trimmer. Quindi quando tutto il valore della resistenza Rv è spostato verso la resistenza R2 otteniamo il periodo massimo mentre quando tutto il valore della resistenza Rv è spostata verso la resistenza R1 otteniamo il periodo minimo. Cerchiamo adesso di capire entro quale range di frequenza è possibile variare l'uscita del nostro generatore. Considerando il fatto che il nostro amplificatore operazionale presenterà una saturazione della tensione di uscita tranne il caso in cui fosse di tipo real to real andiamo a vedere questo caso particolare ovvero supponendo che la tensione di uscita dell'amplificatore operazionale sia al massimo il 90 per cento della sua tensione di alimentazione otteniamo che il peso massimo in proporzione delle resistenze che convongono quel ramo di retrazione può avere i seguenti valori ovvero che R1 ha un valore in peso pari al 10 per cento della somma totale delle resistenze R2 medesima cosa mentre Rv ha un valore in peso pari all'ottanta per cento. Quindi essendo che il periodo è funzione solo del rapporto di queste resistenze possiamo già andare a calcolare il periodo massimo ovvero quando tutto il valore di Rv è spostato verso il basso, il periodo minimo quando tutto il valore di Rv è spostato verso l'alto e il periodo medio quando il valore di Rv è diviso equamente sulle altre due resistenze riusciamo a ottenere i seguenti valori del periodo e dove possiamo notare che il parametro Rc si mantiene sempre costante in quanto quella parte di circuito non cambia nelle tre situazioni. sapendo che la frequenza massima è pari a 1 diviso il periodo minimo che la frequenza media è pari a 1 diviso il periodo medio e che la frequenza minima è pari a 1 diviso il periodo massimo possiamo ottenere questi tre rapporti dove il primo è proprio il rapporto che stavamo cercando quindi data una frequenza minima sappiamo che la frequenza massima si troverà a un valore di 14,7 volte superiore la frequenza minima che è un un range quindi accettabile in quanto è superiore a una decade di frequenza quindi è superiore alle 10 volte mentre dagli altri due rapporti possiamo notare che il rapporto fra la frequenza massima e la frequenza media è pari a 5.5 mentre il rapporto fra la frequenza minima e la frequenza media è pari a 0,37 e da questi valori ottenuti capiamo quindi che la variazione di frequenza modificando la posizione del potenziometro non è lineare infatti spostando il potenziometro dalla posizione media alla posizione minima otterremo una variazione di frequenza di 5,5 volte mentre spostando il potenziometro dalla posizione media alla posizione massima otterremo una variazione di frequenza di 0,37 volte quindi in pratica girando il potenziometro da un verso sarà più sensibile mentre dall'altro verso sarà meno sensibile quindi questo è un comportamento non lineare che può presentare qualche svantaggio quando si effettua poi una regolazione manuale del circuito. Ora per verificare il funzionamento pratico del circuito andremo a fare qualche piccolo test quindi andrò ad assemblare il circuito su una breadboard con il valore di componenti riportato qui sul foglio che mi consentiranno di variare la frequenza di uscita dell'onda quadra fra un minimo di 170 Hz e un massimo di 2500 Hz Ho appena finito di montare il circuito sulla breadboard e adesso andiamo a vedere qualche forma d'onda con l'oscilloscopio ecco qui le forme d'onda riportate sull'oscilloscopio in giallo vediamo l'uscita dell'amplificatore operazionale mentre in blu la tensione presente sul suo piedino invertente come possiamo vedere l'uscita quindi è perfettamente un'onda quadra in questo momento ci troviamo alla frequenza minima che è 184 quindi leggermente differente dai valori calcolati adesso invece mi sposto sulla frequenza massima vado a girare il trimmer ed ecco che la frequenza inizia ad aumentare inoltre da notare come la tensione di scatto ovvero la forma d'onda blu sta diminuendo man mano che io aumento la frequenza proprio come previsto dalla teoria di questo circuito ecco qui sono alla frequenza massima valore leggermente inferiore rispetto a quello calcolato analiticamente che era pari a 2500 Hz e che potrebbe essere causato da piccole differenze dai valori di resistenza che abbiamo inserito nel circuito infatti avevamo detto che la parte superiore delle frequenze era quella molto sensibile a piccole variazioni di resistenza quindi è molto probabile che anche qualche differenza di un centinaio di ohm possa aver influenzato questa così grande variazione dalla frequenza teorizzata molto bene quindi come abbiamo potuto vedere il circuito funziona correttamente ed inoltre questo metodo di variazione della frequenza risulta davvero essere molto efficace per questo video quindi è tutto alla prossima grazie a tutti